Molta informazione è conosciuta, o che sono definiti nel social, nel cloud. Ma in questo tipo di evento c'è anche l'opportunità di avere una confermazione, o, come posso dire, di avere una classificazione del vostro pensiero, per capire l'importanza di un certo tema per altre persone, e anche condividere che abbiamo il stesso problema è un buon punto, una buona confermazione, da questo punto di vista. Quindi, dal mio punto di vista, un buon evento è 20% nuova informazione, 80% confermazione e classificazione.